Corviale per ora è un'idea, è un mio sogno, abbattere Corviale, per abbattere un simbolo negativo, un simbolo della speculazione, un simbolo che ha offeso la dignità della persona perché case all'interno di un serpentone appunto lungo un chilometro, insomma a Roma, quella è una tipologia sovietica, quindi la sinistra quando reagisce lei deve ricordare che nell'est Europa si costruiva così, avendo poi la cucina a metà, la tipologia tipica del comunismo, noi per fortuna abbiamo un'altra cultura e un'altra civiltà, in più il serpentone ha creato un'alterazione dell'equilibrio della natura e della nostra città, è un ecomostro, deve essere abbattuto ma chiaramente prima di muovere una sola pietra bisogna pensare a chi vi abita perché possono essere collocati lì, ma come si fa? Si dice, è semplice secondo me, che siccome lì vi sono anche tante aree pubbliche, private e libere, quelle aree devono servire per far diventare Corviale città. La mia idea di tanti anni di battaglia in Campidoglio è che ogni quartiere, ogni periferia, ogni borgata diventi città, città autonoma, con tutti i servizi propri di una città.